Oggi ho aperto il giornale L'Adige e se non mi è preso un colpo poco ci cala. Come voi tutti sapete sono 64 anni da quando sono arco che io mi sono battuto per la stazione delle Corriere perché ho sempre ritenuto che quella pensilina non rappresentasse e fosse un brutto biglietto da visita per il nostro paese. Cosa leggo oggi sul giornale? Che l'amministrazione comunale sistemerà la stazione delle Corriere. Se non mi è preso un colpo poco ci cala. Io finché non lo vedo non ci credo ma credo che se questa amministrazione comunale porta a compimento l'operazione stazione delle Corriere veramente ha fatto una grande cosa. L'altro obiettivo mio lo sapete tutti è il muro delle palme e spero che anche lì la situazione venga risolta. La stazione delle Corriere è sempre stato così un mio pallino perché su quella stazione lì adesso vengono anche convogliati i pullman degli stranieri. Allora quando arriva un tedesco scende la pulma e vede quella pensilina lì ma non sono arrivati qui, sono arrivati nella Polonia del 1000 e chissà dove, sono arrivati nella Russia prima del muro di Berlino e giù di questo passo. Mi sembra che sistemare sia un'operazione veramente eccezionale. Mi auguro che il sindaco quando mi incontri non si gira dall'altra parte perché oramai quando mi incontrava svicolava perché lui e anche Rizzi, l'assessore Rizzi, perché l'assessore Rizzi tutte le volte dice, signor assessore guardi che lei in campagna elettorale, nell'ultima cosa, aveva promesso che avrebbe messo a posto la stazione delle Corriere, ma la stazione delle Corriere a posto non era. Mi auguro che adesso quando l'incontro potrò andare a bere un aperitivo con loro, altrimenti finché la stazione delle Corriere non era pronto io aperitivi con loro, non ne bevo.